Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni dice, parlando a potenza, parla di tante cose e poi aggiunge hai voglia a dire il governo abbandona il sud. Figuratevi se io che credo nell'Italia più di ogni cosa potrei lasciare metà di questa nazione indietro. Hanno sbagliato interlocutore. Lo dico anche per quello che riguarda l'autonomia differenziata. Altro oggetto di continue notizie false. Il presupposto è l'individuazione dei LEP. C'è stato un divario e siamo noi che lo stiamo combattendo. L'autonomia differenziata non vuol dire che io levo a una regione per dare a un'altra. Significa che se io ho una regione virtuosa, lo Stato possa valutare di dare nuove competenze da gestire. Dà qualcosa al mezzogiorno. La responsabilizzazione della sua classe dirigente che è qualcosa che serve. Non mi stupisce che quelli che si scagliano contro l'autonomia differenziata, più degli altri, sono quelli che hanno i peggiori parametri in Italia. Allora, ci serve dire due cose sull'autonomia differenziata. La Lega e l'autonomia differenziata. Allora, partiamo dall'autonomia differenziata. Il LEP. Il LEP vuol dire che, prima di mettere in atto l'autonomia, che poi non ha niente di così mostruoso, però andiamo per gradi. Prima di fare e di mettere in atto in Italia l'autonomia, devono essere garantiti i LEP in tutta Italia. Vuol dire che sanità, trasporti e scuola devono avere un livello sufficiente in tutta Italia, cosa che oggi non c'è? La sanità è messa male, ma al sud è praticamente diroccata, proprio in fase di estinzione. E allora, cosa vuol dire? Che prima di fare l'autonomia e partire con l'autonomia, devi garantire che in Italia ci sia la sanità, i trasporti e la scuola a un livello sufficiente per tutti. questo significa che bisognerebbe investire centinaia di miliardi per fare ferrovie e autostrade in tutto il centro-sud, riempire di treni, fare ospedali nuovi al centro-sud e far sì che tutta l'Italia abbia un livello della sanità decente, per non parlare della scuola. Tutto questo comporta centinaia di miliardi. O meglio, diciamo 150-200 miliardi. E io vi dico, bene, dove sono questi soldi? Non ci sono. E come fai a fare l'autonomia differenziata? Non la fai. E allora perché si parla di sta autonomia differenziata? Perché la Lega la vuole. Però facciamo ancora un passo indietro. Oggi c'è un abisso tra la sanità in Calabria e la sanità in Lombardia. Bene, quindi oggi c'è un divario. Con l'autonomia differenziata questo divario sarebbe ridotto, perché in Sicilia dovrebbe esserci una sanità sufficiente. Quindi oggi c'è un divario, con l'autonomia differenziata il divario aumenterebbe. Non è che la sanità in Sicilia sarebbe uguale a quella della Lombardia. Però la Lombardia continuerebbe a essere quella che è, ma in Sicilia dovrebbe essere il livello della sanità è alzato almeno ad un livello sufficiente. Ma non ci sono i soldi. Quindi l'autonomia non si farà mai. Chiaro questo? Ricordatevelo quando poi... Però c'è la Lega che la vuole. Perché? E questo è banale. La Lega nasce con Bossi, la Lega Nord e Lega Lombarda, per dividere l'Italia. Secessione. Dividerla dal Po in su e dal Po in giù. E creare un nuovo Stato, la Padania. A questo punto, passata la Lega Nord di Bossi, che non esiste più, al leghista puro e duro è rimasta quella roba della secessione. che ovviamente non si può fare. È illegale. Verrebbero tutti arrestati e processati per direttissima per attentato e cospirazione contro la Repubblica. Quindi non puoi dividere l'Italia. Quando hanno capito che sarebbero finiti tutti in galera con l'ergastolo, allora hanno optato per l'autonomia. Hanno cancellato la parola secessione e hanno scritto autonomia. Facendo finta che l'autonomia sia la stessa cosa della secessione. Diventiamo autonomi noi il Grande Nord, diventiamo economicamente autonomi dal Sud, loro via. Ecco, proprio così. Il popolino leghista, convinto dai vertici della Lega di oggi, è che facendo questa autonomia farlocca che vi raccontavo prima, loro avrebbero raggiunto quell'obiettivo trentennale che finalmente l'autonomia... Poi, se realmente si dovesse fare di autonomia non ci sarebbe praticamente quasi nulla, ma servirebbe per far vedere al popolo elettore della Lega che è fatto, fatto, fatto dopo trent'anni. In realtà è solamente fatto sì, ma una presa in giro. Quindi da una parte c'è la gente che dice ma come se la Lega continua ad esultare per questa autonomia, la vuole subito, vuol dire che questa autonomia, visto che la Lega fa così, vuol dire che questa autonomia ha qualcosa che non va, veramente è una secessione economica dal nord al sud. Quindi la Meloni dice di no, ma deve reggere il moccolo a Salvini e alla Lega e far finta che l'autonomia sia chissà che cosa. Quindi da una parte c'è la Lega che spinge per fare questa cosa elettorale, la finta autonomia per dire al suo popolo l'abbiamo fatta. Dall'altra parte c'è la Meloni che dice ma quale dividere l'Italia? Come dire ma voi non avete ancora capito che cosa sta succedendo. Noi come governo, noi come Fratelli d'Italia stiamo facendo finta di fare questa autonomia per accontentare quello lì e i suoi elettori. Perché poi quello lì Salvini dirà ai suoi elettori che ce l'abbiamo fatta, abbiamo l'autonomia del grande nord. In realtà non ci sarebbe nessuna vera autonomia, sarebbe tutta una farsa. Ma anche la farsa non potrebbe mai cominciare fino a quando non si fanno quei LEP, quei livelli minimi. Adesso è chiaro, quindi ovviamente che la Meloni non abbandona il sud o divide l'Italia, però deve tenere a bada quello lì col suo partito e la secessione è diventata l'autonomia. Quindi devono fare sta finta buffonata qua per dire all'elettorato dell'Eghisto, ce l'abbiamo fatta, sì, dopo 30 anni l'autonomia. Ma che è sta autonomia? Boh, niente. È solo una parola. Parole, parole, parole. Arrivederci a tutti e grazie.